Cari ragazzi, questo giorno è speciale, è pieno di gioia, di commozione per tutti voi, tutti noi e sia per voi l'inizio di una lunga vita insieme. Poi, tu sei radiosa, ok, sei tanto cresciuto con tanti ricordi. C'è una stella meravigliosa lassù che arriva dall'Oriente, dall'India, che vi aiuterà e vai, andate ragazzi. Grazie